bella a tutti ragazzi io sono dragon beat raga oggi siamo qui con un nuovo contest in compagnia di drake come voi conoscete nitrocrackhead e kikos raga oggi siamo qui un quinto conquisto contest vabbè non so neanche parlare oggi lasciamo stare ora vi mostro subito i posti esatto e niente mi raccomando prima per partecipare al contest prima di vedere ovvero i quattro posti diciamo iscrivetevi al canale come al solito lasciate un like al video e condividete se c'è qualche vostro amico che vuole partecipare al contest raga allora iniziamo subito primo posto abbiamo disintegratore vindertec al 130 full perk leggendari con 6 per chi invece di 5 non so perché ma mi uscì così quindi assever che invece di 5 raga aquila calva 130 full perk leggendari e uno epico poi abbiamo 24 di malachite 18 attiva celle d'energia 6 di raggio solare 10 di corrucente e 10 di scaglia raga e questo è il primo posto passiamo subito al secondo posto al secondo posto abbiamo un idra al 106 uno schiantatica al 106 pure questo full perk leggendari un lancia halloween al 130 e un lancia halloween al 106 passiamo al terzo posto che sarebbe questo e troviamo matt candy corn la nuova arma raga dell'evento l'incubo al 106 l'orso 106 lama tempesta 106 e ho messo un'altra cosa qui dentro ma si è buggata va bello rimetto abbiamo messo un altro lancia halloween lancia halloween al 106 non so perché non me l'ha droppato va boh invece raga il quarto posto abbiamo rasoio al 106 5 di assidiana e una masamune al 106 raga ve la faccio pure vedere se non mi credete full perk leggendari quindi niente raga l'estrazione del contest verrà fatta attraverso un posto community quindi lo farò direttamente dopo domani ovvero giovedì mi raccomando restate connessi al canale ci vediamo giovedì nel posto community raga la campanella esatto attivate la campanella per non perdere gli altri video e quindi questo è tutto raga ci vediamo nel prossimo video un saluto da dragon bella da drake e da gicos